Il 4 di dicembre è un appuntamento molto importante per il nostro Paese. Si voterà per il referendum costituzionale ed è molto importante come appuntamento perché è un referendum che non ha quorum. Quindi invito i cittadini a chiedersi qual è la posizione che vogliono prendere, qual è il futuro che vogliono dare al nostro Paese, quali sono le cose che ritengono importanti per le istituzioni del Paese e andare a esprimere un proprio voto. È importante non delegare ad altri questa scelta, è importante partecipare. Sui territori sono state tantissime le iniziative che sono state promosse sul nostro territorio, nel territorio del Canavese, ma in tutto il territorio nazionale. Ci sono state tantissime associazioni e tantissime entità che hanno capito qual è l'importanza di questo momento e hanno cercato prima di tutto anche le istituzioni territoriali, quindi prima di tutto i comuni che hanno cercato di organizzare anche sul territorio dei confronti, i sindaci che ci hanno messo la faccia in un senso e in un altro. Sono anche in molti i sindaci infatti che hanno partecipato. Credo che se un punto di forza comunque ci sarà di questo momento elettorale che ci aspetta è il fatto che è riuscito a coinvolgere la cittadinanza e coinvolgere le parti sociali in una discussione sul futuro del Paese ed è riuscito comunque a far partecipare le persone su una scelta importante, che è la scelta delle nostre istituzioni, come renderle più efficienti, come renderle più adatte anche a rispondere alle esigenze dei cittadini e alle nostre necessità. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori